Buongiorno, sempre di Pasquale Allora, sempre di Pasquale, progettista di piccole macchine volanti Questa è la ricetta in versione mimetizzato, proprio per rendersi la vita difficile in aio Sì, non è vero, non è vero, non è vero Allora, questo qui ha una particolarità, è molto semplice a montarlo Sono uno, due, tre, quattro, cinque pezzi Sei, sette, poi se cade diventano di più Motore elettrico, stesso motore, che c'è? Stiamo a decollare, siamo mezzo alla pista Ah, vabbè, non è un problema Mi partiamo da capo No, che da capo Continuo Motore elettrico Non tanto potenziato È un 2002 Motore più venduto nel mondo È un 22126T È un 2002KV Con batteria 3 celle Regolatore a 30A Regolatore a 30A Mini ricevente Dai, dai! Insomma, servettini un po' buoni Servettini digitali Insomma, deve essere abbastanza... Ok Il profilo... è un profilo... Aspetta, eh Abbiamo convesso Aspetta che non lo... Ecco Il 10... 9% Quindi è molto importante Si chiama SN45, mi pare È importante questo È molto semplice Come si vede C'è un piccolo rinforzo Una bacchetta di carbone da qui a lì Ci sono gli altri scassi fatti Con la CNC faccio anche gli scassi direzionali Quindi non c'è modo... Non c'è modo di sbagliare... Di sbagliare... La direzione Però ci vuole... Il lanciatore ufficiale Prego Pronto? Aspetta! Pronto? Pronto? Oh mamma mia che lo vuole Come vuole? C'è un po' di trapio stavano E non va bene Allora, lo lancio come? Così? No, abbastanza in alto Così? No, no No, quello dopo Fammi dire Tira Perfetto Tira Tira Ok Dovrebbe tirare su Quindi lo lancio Sì Faccio un po' l'altro Vai 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 Spettacolare Ma chi sei? Il motore però mi sembra che è stato più scelto Un po' Un po' Spettacolare L'ho perso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Non è andata troppo lontano Pasquale Sennò non si vede Sta andando al minimo eh Perfetto Che poi ce ne tre tutti insieme E come vediamo la mimetizzazione Faccio lavoro Non si vede Stai vicino per fare questa ripresa Rioscia 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 È uno spettacolo Stai zitto Bellissimo Beh, sto andando al minimo Stai facendo Attento Attento Diamo un po' di forza di forza Bello Non va bene No Non va bene Va bene Veloce 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 Bellissimo Bellissimo mezzo questo è il miglior mezzo che ho fatto Allora Guarda come va anche piano E' preciso Andiamo dietro a Giovanni Molte, molte, molte Questo non è vero? Guarda qua Guarda eh, un passaggio vicino Ti do una comitata Ma cosa vedo? Qui non lo vedo, questi non lo vedi? Lo spengo qui, ora lo voglio vedere